Con l'augurio di poter tornare a camminare presto fisicamente, intanto vi invito a farlo tutti insieme con la fantasia, con questa poesia che si intitola Camminare. Siamo stati finestra, lampione, pozzanghera e filo d'erba anche oggi. Camminare ci fa diventare paesaggio, essere terra della terra, scendere dal piedistallo umano da dove tutto si vede antropomorfo. Il nostro successore non sarà un androide, ma un albero. Ci ha visti bruciare, sradicare i suoi simili per millenni e ci è sopravvissuto. Pietro Berra per il Festival Internazionale di Poesia di Milano nella Giornata Mondiale della Poesia 2020. Grazie.